Enrico Guarneri, alias Litterio, oggi pomeriggio è stato ospite della scuola delle tre tappe a Palazzo Bianchi in un incontro intervista dal titolo Giù la maschera Enrico, in cui l'attore cabarettista siciliano ha ripercorso le tappe del suo successo. Enrico Guarneri ha preso come modello il concetto di teatro di Pirandello, di cui ne è esaltato la sicilianità. Quel teatro in cui la maschera ricopre un ruolo fondamentale, infatti per Pirandello l'uomo porta sempre una maschera che adatta le situazioni e alle circostanze in cui si trova. Ne conferma il capolavoro pirandelliano Uno, Nessuno e Centomila. Enrico Guarneri ha anche ricevuto dei regali dall'Associazione Adranite, intanto domani la scuola delle tre tappe a Sarà ospite della trasmissione televisiva Insieme, condotta dal giornalista Salvo La Rosa. Il teatro ovviamente è questo, perché oggi fai Argante, domani fai Arpagone, poi fai Liola, poi fai Don Coladuscio, quindi metti una maschera. Però il pensiero pirandelliano era ed è talmente vero e attuale che ovviamente vale per l'individuo anche nel privato, ognuno di noi, chi è, boh, chi lo sa. Per la moglie può essere uno, per i figli è un altro o quando incontra gli amici, c'è un certo tipo di amici, un altro tipo. Per cui questo mascherarsi continuamente, come diceva il grande Luigi, è vero, ha perfettamente ragione. Ti abbiamo sentito nominare più volte Pirandello, hai richiamato il concetto di lingua siciliana. Ti sei, tra virgolette, autoproclamato, vorresti essere ambasciatore della Sicilia. Mi piacerebbe, mi piacerebbe il sogno della mia vita, poter essere ufficialmente, ma non tanto riconosciuto quando essere messo nelle condizioni di trainare per tutta l'Italia o addirittura l'Europa, questa grandissima drammaturgia siciliana che appartiene al sud, appartiene al Mediterraneo, è tutto proprio un pensiero mediterraneo che grandissimi autori siciliani hanno concretizzato in maniera più unica che rara. Come ti consideri tu? Sicuramente attore, ma attore anche quando fa l'Itterio, perché altro non fa che recitare il ruolo di un cafone, sarebbe così se fosse napoletano, o di un burino se fosse romano, e nel nostro caso che cosa è zaurdo siciliano? Sul concetto della sicilianità e del dialetto, ma per fortuna io lo predico e lo penso, lo dico da tantissimi anni, ora mi pare che anche la scuola per esempio sta seriamente cominciando a pensare a parlare della lingua siciliana. Ho detto poco fa che Luigi Pirandello, lavoriatosi a Bonn, la sua tesi di laurea era proprio sulla lingua grigentina in particolare, quindi c'è questo desiderio, questo bisogno di tenere vive le radici, perché altrimenti con le radici tagliate si muore, si secca. Per ultimo, perché Enrico Guarneri piace tanto alla gente? Ma guarda, questa è una domanda alla quale non credo che si possa facilmente rispondere, potrei dire perché sono una brava persona, perché sono una persona sincera, mi smentirebbe subito qualcuno perché potrebbe parlare anche di altri grandi attori del passato che nella vita erano cose affettuose, di chi le proprio inenarrabili, quindi non è così, e allora bisognerebbe cominciare a parlare forse di talento, ma che cos'è questo talento? Che cos'è? Il talento è fatto di che cosa? Di gesti, di musicalità che ha la tua voce, di movimenti, di lampen, dall'occhio, che hai, che non hai, non si sa, questo per fortuna è il grande mistero dell'arte. E Opaisi che si dice? Ah, Opaisi è tranquillo, eh, volesse essere l'Italia come Opaisi.